Escrementi sul portone di Palazzo Cavallo, imbrattati anche citofono e serratura, è successo nella cuore della città di Arezzo nella notte tra lunedì e martedì. Ad accorgersi dell'accaduto l'impiegato che ha aperto il comune e che ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. E quindi abbiamo denunciato il fatto all'autorità di polizia e dopodiché è stato sanificato tutto. Sulla vicenda sta indagando la polizia di Stato per capire se si tratta di un episodio isolato, un atto vandalico oppure se è riconducibile alla commemorazione di Oreste Ghinelli, padre dell'attuale primo cittadino, un'iniziativa particolarmente contestata che si è svolta proprio a Palazzo Cavallo martedì pomeriggio. Io non so che origine abbia, ma qualunque origine è triste vedere che si sporca la casa comunale. Cioè è un atto contro tutta la città, questa è la casa di tutti, la casa degli aretini. Quindi mi auguro che sia veramente il gesto sconsiderato di qualcuno che non ha un equilibrio mentale sufficiente per rendersi conto che ripeto questa è la casa di tutti. Saranno acquisite adesso le immagini delle telecamere di video e sorveglianza fondamentali per risalire agli autori del gesto. Ci sono delle indagini in corso che stabiliranno, ci sono delle telecamere che hanno sicuramente ripreso chi è stato, non so se sarà possibile identificarlo o meno, però grande tristezza, questa città non se lo merita una cosa del genere, per qualsiasi motivo sia venuta fuori.